Finalmente, finalmente stanno tornando tutti, anche Romagnoli ha smaltito il suo problema al polpaccio, si è allenato insieme al gruppo, quindi anche Romagnoli è recuperato, rimane solo fuori, ed era anche previsto, il buon Davide Calabria dopo la pulizia al menisco al ginocchio, quindi anche Romagnoli in gruppo, anche se non sarà convocato, ve lo possiamo già dire, per il match contro il Parma, gli serve ovviamente rodare la condizione e l'avremo per le tre partite in una settimana contro Genoa, Sassuolo e Roma contro la Lazio, una presenza importante per il capitano rossonero, che come abbiamo detto ieri non ci sono previsioni circa uno scambio con Bernardeschi, però siamo partiti da questa notizia, quindi per quello che riguarda la formazione credo di non sbagliare se io in questo momento ipotizzo Donnarumma, Dalot Okalulu, più facile Dalot secondo me, Tomori Kier Teo Hernández, Kessy Benasser, con Selemeker Cialanoglu a sinistra Rebic e davanti Zlatan Ibrahimovic. A proposito, vi racconto una storia, vi racconto una storia. Nel 1900, mi sono portato il librone di tutte le storie, nel 1905-1906, parto molto da lontano, c'era un giocatore olandese, si chiamava Knote, François Mennok-Knote, che nel 1905-1906 giocava nel Milan, era ancora il Milan di Chilpi, ma era anche cantante lirico e questo Knote, quando c'era aria o la temperatura non era consona alle sue corde vocali, non partecipava alla pretitella e all'allenamento ed è stato il primo artista, non solo pedatorio, della storia del Milan. Poi, alla fine degli anni 20, il Milan ha avuto in squadra il primo attore calciatore, Pietro Pastore, lo chiamavano Rodolfo Valentino perché era il bello dell'epica, con i capelli con la brillantina tutti tirati indietro. Giocava nel Brescia in una tournée a New York, in quel famoso bastimento, ci si ricava a New York in nave allora ed era stato scoperto, mi dicono proprio, un produttore l'ha visto e l'ha chiamato per il film, il film che si chiama La leggenda di Willi, ma lui continuava a giocare a calcio, nel Milan ha segnato, è un attaccante, 52 gol prima di passare alla Lazio, perché era Lazio, perché Cinecittà era là. Attenzione, perché Pietro Pastore, sinceramente mi piacerebbe capire quale sia il volto di Pietro Pastore nel film Il generale della Rovere, film storico, con la regia di Vittorio De Sica e poi anche in Vacanze Romane, il film famoso con Audrey Hepburn e William Holden e con la regia di Billy Wilder, quindi un attore nel Milan. Perché tutto questo preambolone? Perché anche, anche Zlatan, Ibra Supremacy, Ibra Imovich girerà un film. Girerà un film in Francia, il nuovo capitolo della saga Asterix e Obelix e lui impersonerà come ha anticipato, e vedete l'immagine, come ha anticipato nel suo profilo Instagram, ebbene lui interpreterà antivirus. Quindi questa è la notizia, dopo essere stato presentatore a Sanremo, sarà anche attore nel film di Asterix e Obelix che ci girerà e sarà poi, uscirà nel 2022. Sorrido perché presentatore, conduttore, attore, ma soprattutto lui la mette. Lui fa gol, lui mette la palla in rete ed è quello che interessa a me. Poi che cosa faccia se continua a mettere la palla in rete? Che cosa faccia nella sua vita extra? Calcio sono tutti i problemi suoi. Mi interessa che rinnoverà il contratto. Ripeto, sembrava in questa settimana, vi avevo detto come prima data entro metà aprile, ma comunque rinnoverà il contratto con il Milan, continuerà a segnare, rimarrà ancora qui e se poi, quando sarà libero con i suoi impegni calcistici, si divertirà a far l'attore nel film Asterix e Obelix, problema per me da 100 a 1000, meno 10.000. E veniamo all'altra notizia di giornata legata al mercato. Ieri Sky, i miei colleghi di Sky, Peppe Di Stefano, ha rivelato che Pisacane, il procuratore di Insigne, sia stato a Casa Milan a parlare con i dirigenti del Milan. Allora, essendo anche l'agente di Insigne, si è pensato a un interessamento dei dirigenti del Milan nei confronti del forte campione napoletano, oppure magari Pisacane che è andato a sondare il terreno. Riguardo a questo punto non ho notizie, anche se trapela molta freddezza riguardo a questo argomento da Casa Milan, ma è una freddezza anche logica. Innanzitutto il giocatore percepisce uno stipendio importante di 3 milioni e mezzo e vorrebbe un aumento significativo. Quindi il Milan dovrebbe prendere un giocatore che pretenderebbe, se l'aumento è significativo, 4-4,5. Quindi legittime le richieste di Insigne, ma legittimo anche la perplessità sul discorso economico del Milan. Ma soprattutto sul discorso tecnico e soprattutto tattico, Insigne gioca in una punta. Allora il Milan ha bisogno di una punta e vediamo un po', qualcuno dice che Mandzukic deve segnare tot goal per essere confermato. No, deve mostrare un ritrovato assetto atletico, un ritrovato assetto fisico e poi ne parleremo. E serve una punta centrale, Mandzukic o X. E quindi andare a investire pur su un campione, su un nazionale, su un giocatore importante come Insigne, che però gioca in un ruolo, partenza da sinistra, dove il Milan è totalmente abbondante. Leao, Aug e soprattutto Rebic. Il Milan ha qualche lacuna sulla fascia destra, l'attaccante, eventualmente un vice Benasser, un'alternativa a Calabria o a Teo Hernandez. Quindi quelli sono i primi puzzle. Deve capire la situazione del portiere del numero 10 Cialanoglu. Quindi ci sono diverse opzioni da valutare bene e credo che il giocatore di fascia sinistra avanzato sia francamente una delle ultime opzioni. Il Milan lì è ben coperto e quindi ritengo che il discorso legato a Insigne faccia parte dei normali sondaggi, contatti di agenti con i dirigenti del Milan, ma direi di non andare oltre. E dunque attendiamo il fin con Ibrahimović, ma soprattutto attendiamo i suoi gol già a Parma. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegate.